L'Oreal Paris presenta in Failed Blush Paint, una moderna blush palette composta da 5 cialde per mille e uno modi di intendere e vedere il make-up. Protagonista del test prodotto di maggio su Billy Tester. It, questa graziosa palette trasmette un senso di modernità innata che non sfugge a chi la osserve e prova con mano. Al prezzo di 14,90€, al momento della stesura della review Amazon la propone a 9,90€ invece di 14,99€. Avremo 5 cialde, ben combinate tra loro, divise in nuance rosate nel caso della pink palette o aranciate come Ambersh, di cui oggi vi racconto. Stupiscono i colori, la texture setosa composta da migliaia di pigmenti che donano colore e armonia all'incarnato, esaltato da nuova luce. Colori che stupiscono ma al tempo stesso trasmettono un'armoniosa essenza, tocco indispensabile per un viso sempre al top. La deliziosa essenza caramellata completa un quadro quasi perfetto, con tonalità che si adattano bene a qualsiasi tipo di incarnato e perfettamente modulabili tra loro. Curiosi di saperne di più? Scopriamola insieme. L'Oreol Infailible Blush Paint Palette Ambersh in sintesi, cosa sapere e perché comprarla. Con Infailible L'Oreol sdogana nuovi modi di intendere il make-up, proponendo prodotti di ottima fattura a prezzi accessibili, matite, occhi ultrascriventi in gel, tinte labbra e effetto glossy ed è subito una festa di colori dove i sensi si accendono e l'arte del make si esprime in nuove forme. Infailible si rivolge ad un pubblico giovane che sia capace di dettare nuove mode e trasformare il colore che subito evolve in linee, che sconvolgono e rompono le regole, andando oltre i tradizionali limiti. Giovani sfacciati, indipendenti ma anche attenti alla qualità, quella vera che sia però accessibile e non eccessivamente costosa. Su questo si basa Infailible Blush Paint, blush palette che riunisce in 5 tonalità all'essenza del volto perennemente radioso. Si va dalle atmosfere glossy di pink, rosati che accendono gli zigomi di estrosa creatività, alle tenui ma esotiche sfumature di Ambersh. Una scia aranciata pescata per chi non vuole rinunciare al colore senza però esagerare. Entrambe le palette si compongono di 5 cialde, ognuna con un nome preciso e contenenti 2 grammi di prodotto per un totale di 10 grammi dosato perfettamente in un astuccio compatto dalle linee superbamente moderne. Un aspetto giovane, proprio come il pubblico al quale la blush palette L'Oreal si rivolge a dominare la scena è sicuramente la pigmentazione ultrascrivente, composta da migliaia di pigmenti ultrasottili che apportano colore pieno alla prima passata. Facili da sfumare con un pennello specifico per blush, i colori possono essere utilizzati singolarmente o modulati tra loro per un effetto tridimensionale che possa dare lo spunto per la tecnica dell'ombre. L'incarnato è subito luminoso, rivalutato da strati di colore che ne esaltano i tratti naturali. Se in pink ritroviamo sfumature un più estrose, è amber a mostrarsi adatto all'uso giornaliero e a qualsiasi carnagione, da quella diafana a quella ambrata. I blush di Infallible Blush Paint L'Oreal sono a lunga tenuta, resistono bene all'umidità, aderiscono perfettamente alla pelle e consentono di ottenere un effetto modulabile che può variare da delicato e intenso a teatrale in un batter di pennello. La blush palette Infallible è disponibile negli store sconvenzionati alla vendita dei prodotti L'Oreal come acqua e ampunte virgola sapone e le profumerie, ma lo trovate anche nelle grandi catene di distribuzione online. Il prezzo è incluso nella fascia 8,15€, accessibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Conviene comprarla? Sì se siete alla ricerca di una comoda palette blush di ottima qualità, con un'eccellente pigmentazione e una buona tenuta ad un prezzo davvero irrisorio. Ma vediamo come si comporta nell'uso quotidiano questa graziosa palette. Packaging pratico e comodo l'astuccio rettangolare dove, in cialde sferiche di compatte dimensioni, i blush vengono conservati in maniera ottimale. Superficie in plastica dura dominata da un profondo nero caratterizzato da moderne pennellate olografiche fucsia, la confezione è dotata di una comoda finestrella trasparente attraverso la quale osservare e consultare le varie tonalità. Buona la resistenza, facile l'apertura a scatto e nel complesso davvero comoda da trasportare, presenta sul retro una breve presentazione dei blush con i relativi nomi. Ogni sfumatura di Hammersh si lega inesorabilmente ai colori del tramonto e a quelli di paesaggi esotici, lontani, baciati dalla bronzatura e dai caldi raggi del sole. Una scelta originale, simpatica ma tuttavia in linea con i trend del momento che si rivela accattivante soprattutto per i più giovani. Assente purtroppo un pennello adibito allo scopo mentre utile e chiaro appare l'inci, disposto sulle pagine interne della comoda targhetta biadesiva posta sul retro. Disponibili altressi PAO i contatti utili, nonché una breve descrizione del prodotto e multilingua. I colori di Hammersh in Fallible Blush Paint L'Oreal Hammersh è una calda selezione di aranciati equamente suddivisi tra finish opati e shimmer, con una nota satinata nel mezzo. La texture è leggera, setosa, facile da sfumare e modulabile. Elevata la pigmentazione anche se i primi colori, Miami Sun Race e Coral Bay, presentano una minore intensità rispetto agli altri. Ogni tonalità si adatta ad uno specifico tipo di incarnato. Mentre i primi colori possono andare bene per incarnati diafani e ambrati, i più arancioni tendono a sfoggiare un'eccessiva presenza, inadatta per certi incarnati chiarissimi come il mio. Il sottotono a caldo, rende la pelle luminosa ma occhio a come sfumate il prodotto, è necessario infatti sfumare per bene onde e evitare di sfoggiare un look a chiazze. Non siamo mica ghepardi o haidi, ricordatelo. Come potete vedere nelle relative foto, a dominare la scena di Amber Shesono, Miami Sun Race, un delicato pesca chiarissimo lievemente. Shimmer che dona all'incarnato profonda luminosità pur mantenendosi sobrio e adatto ad un look giornaliero, si sposa alla perfezione con le pelli più chiare. Possiede un sottotono caldo e lascia una delicata scia sulle gote dove brilla in tutta la sua leggera essenza. Modulabile, facile da sfumare, a lunga tenuta. Coral Bay, un nome, un'esperienza dalle romantiche aspettative. Corallo Satin, uno dai meno pigmentati tra i cinque ma è facilmente modulabile e sfumabile. Uno dai miei preferiti in quanto unisce la bellezza del classico color corallo alla sobria portabilità giornaliera. Peach Fling, rosa, pesca con numerose particelle luminose che donano un look luminoso ma nel complesso sobrio e portabile. La pigmentazione è qui leggerissima, forse uguale a quella di Miami Sunrise. Amber Love, un caldo color ambro dall'effetto glow assicurato. Sottotono caldo, è una delle sfumature più pigmentati della palette nonché quello più luminoso. Indian Cruz, un profondo arancione satinato molto intenso che trovo comunque inadatto per le pelli più chiare. Si presta bene agli incarnati scuri, mentre sulla pelle diafana appare spesso esagerato pur sfumandolo con minuziosa attenzione. Texture, finish, tenuta Blushing Filey Bloreo Lambersh. Ogni tonalità è a lunga tenuta, estremamente resistente anche all'umidità. Come dimostra la prova avvenuta tra giugno e luglio, con 40 gradi all'ombra è una sofferenza diffusa tra corsa e mezzi milanesi e disperata ricerca di refrigerio. Malgrado tutto il resto si sciogliesse come neve al sole, ma sarebbe più opportuno parlare di ghiaccioli al sole, i blush di Infailible. Blush Paint Palette sono rimasti praticamente intatti per la bellezza di circa 6-7 ore senza l'utilizzo di alcun primer. Il colore perde levemente intensità al termine della giornata ma tuttavia non presenta grossi problemi. Leggerissimi, si sfumano benissimo e sono altresi modulabili, i colori sono così ben abbinati tra loro che giocarci diventa possibile. Sperimentando con una tridimensionalità che abbaglia e rende il make-up un'esperienza artistica. Se si uniscono un colore chiaro e un altro scuro si otterrà un bellissimo effetto ombre, con tonalità chiara scura ed incredibile fascino. Per l'utilizzo di questo prodotto si consiglia una buona manualità e un buon pennello adibito allo scopo, trattandosi di colori intensi. I blush di Infailible vanno sfumati con attenzione. Non è una blush palette da utilizzare con fretta, piuttosto meglio impiegare una manciata di minuti in più che ottenere un risultato eccessivamente marcato. Perché ID è sui monti e le nostre guanciotte non si rendono adatte ad una goffa imitazione cittadina della bambina svizzera. I blush di Infailible Blush Palette Loreol non producono fallout. Il prodotto rimane ben compatto pur mostrando una texture setosa. Leggera ma al tempo stesso asciutta. Un equilibrio che premia e rende l'utilizzo pratico piacevole. La mia esperienza con l'Oreol Infailible Blush Paint Palette la reputo forse una delle prove più lunghe e sofferte di sempre. Ho dovuto purtroppo attendere quasi un mese e mezzo pieno prima di elaborare un'opinione sincera sul prodotto. Con il caldo estremo delle ultime settimane, i 40 gradi compagni di vita e i ventilatori ammutoliti da un'estate fin troppo. Violenta, la voglia di truccarmi è sotto le scarpe. Nelle rare occasioni di improvviso refrigerio ne ho però approfittato e devo dire che questa palette non è che mi sia semplicemente piaciuta. Di più, pratica e compatta, bella da vedere e facile da utilizzare, si presta perfettamente anche a chi con i blush generalmente non va proprio d'accordo. La deliziosa essenza caramellata invoglia all'utilizzo costante e le sfumature pescate di Ambersh si fondono perfettamente anche con Il mio incarnato perennemente pallido. Nota di merito per Miami Sun Race e Coral Bay, in assoluto le mie tonalità preferite della blush palette firmata l'Oreol. Sfumature, color pesca che colorano l'incarnato in maniera delicata, pur mantenendosi comunque presenti donando un aspetto armonioso. I colori sono ben equilibrati, si modulano alla perfezione e sfumano facilmente. La pigmentazione è assoluta. Bisogna sfumare con vigore perché il colore tende da subito a macchiare la pelle, ma una volta lavorate il risultato sarà omogeneo e armonioso. Anche su pelli chiarissime come la mia non appesantisce il risultato finale ma lo valorizza, adeguandosi ai tratti naturali. Ottima la tenuta, i blush resistono egregiamente all'umidità e al tocco, non si sciolgono e quando svaniscono lo fanno gradualmente, lasciando una leggerissima tinta del tutto accettabile. Certe sfumature non sono del tutto adatte agli incarnati di Afani, come nel caso dell'arancione per eccellenza in Biancruise che spesso mi ha dato l'idea di una terra abbronzante. Una blush palette economica da adorare e che i suoi 14,90€ gli vale tutti, fino all'ultimo pigmento di prodotto. Leggera, versatile, adatta a tutti. Un'ottima soluzione nella fascia medio-bassa del mercato. L'Oreal Paris Infalible Paint Palette Viso Blush, 02 Ambersh 9,90€ Euro 8,25 Disponibile vedi dettagli Amazon It is over 23, 2023-22 e 36 Descrizione controllare il simbolo PAO, period after opening, che indica il tempo di scadenza del prodotto. Dopo l'apertura della confezione 4 modi per utilizzare Infalible Blush Paint L'Oreal Ecco la pratica guida che vi aiuterà nell'uso di L'Oreal Infalible Blush Paint. Come potete vedere dall'immagine qui è legata sono 4 modi in cui potete sfruttare i colori di Ambersh, Lift Glow, per un risultato audace ma al passo con i tempi. Il blush viene inteso come bronzer e sugli zigomi esplode il colore, in questo caso si alterna la palette a blush paint stick, altro. Prodotto della gamma Infalible, Balancing Glow, un mix bilanciato per dare al volto naturale equilibrio. Le sfumature ambrate di Ambersh accarezzano l'arcata sopraccigliare, il ponte nasale e il mento oltre ai classici zigomi, Sculpting Glow, per chi artista lo è dentro e fuori. Simile ad un contouring, con questa tecnica si rende il viso più ovale. In questo caso ad alternarsi sono Ambersh e Pink Palette, Color Fever, per chi non si accontenta mai. Esplode il colore in un arco che va a circondare l'occhio, partendo direttamente dall'arcata sopraccigliare. Per stupire e stupirsi. Ince Pau Pau, 24 mesi incitelctris ostearin fenol trimeticone magnesium stearate sintetica flor flogopite telsium sodium. Borosilicate silica alumina caprile glycol tin oxide benzyl alcol enis alcol parfum può contenere, mica C7791 titanium. Dioxide C77491 C77492 C77499 Ironox A e C45410 C75470 Carmine C77163 C77400 C77000 C19140 C77400 C777007 C42090 C77500 C77500 C771513 ingredienti base di cui 7 verdi 3 rossi 2 gialli 1 neutro e 1 nilinci di questa blush. Palette firmata L'Oreal, indubbiamente non male ma sicuramente migliorabile sotto alcuni aspetti. Emollienti e viscosizzanti destabilizzano l'intera formulazione, mentre tra gli ingredienti presenti nella lista mail contiene alcuni. Coloranti sono da bollino rosso assoluto, discreto nel complesso, non sono al momento segnalate reazioni cutanee avverse. L'Oreal Paris Infallible Paint Palette Viso Blush, 02 Ambershot, 8,25€ 9,90€ disponibile Esova Apre 23, 2023-22 e 36 vedi dettagli Amazon. I prezzi aggiornati al Apre 23, 2023-22 e 36 pro equilibrato selezione di tonalità aranciate, possibilità di ricreare effetti ombre, colori facili da sfumare e modulare. Lunga tenuta, resistono anche in condizioni estreme, texture leggera e setosa, pigmentazione elevata, adatti a qualsiasi tipo di incarnato, rivalutano ed esaltano l'incarnato donandogli pura luminosità, pacche giovane e trendy. Punte e virgola deliziose senza caramellata, PAO 24 mesi contro vanno sfumati con molta attenzione, macchiano in fretta la pelle. La Blush Palette di Loreola accessibile a tutti fa strage di cuori. Valutazione, 9 bluscite acuta fu, citando la nostra Lully. Senza alcuna esitazione posso affermare di essermi letteralmente innamorata di questa Blush Palette, fiore all'occhiello della casa. Cosmetica francese nonché rara perla di qualità nella fascia medio-bassa del mercato. Qualità, praticità ed elevate performance se donano al prodotto un aluri irresistibile. Giovane e trendy, nelle sue compatte dimensioni racchiude il segreto per un incarnato radioso, mai spento ma rinsavito anche dopo. Una giornata stancante o una notte all'insegna dell'insonnia. Mai eccessivo, offre sfumature adatte per qualsiasi necessità. Ambersh è un'accattivante soluzione completa di sfumature aranciate calde, facili da sfumare e leggerissime da indossare. Interessante la possibilità di ricreare effetti ombre, estrema la tenuta che consente di indossare il blush per 6-7 ore consecutive. Anche a contatto con sudore e umidità. In una sola parola, perfetta. L'unico difetto è del tutto aggirabile con una buona manualità, la pigmentazione è davvero intensa e se sei da un lato il colore è pieno, vivo e raggiante, dall'altro per i meno esperti potrebbe rappresentare un ostacolo a chiazze. Munitevi di pazienza e un buon pennello e vedrete che lo spettro di Heidi tornerà ufficialmente tra i monti. Dove acquistarla a meno? Amazon It 8 euro e 25 centesimi vedi dettagli Douglas It 11 euro e 48 centesimi vedi dettagli Mibuiveb Com 21 euro e 95 centesimi vedi dettagli Last Amazon price update was, April 23, 2023 22 e 36 alla prossima. Potrebbe interessarti anche, Infailib Total Cover di L'Oreal Paris L'Oreal Paris Infailib Total Cover Blush Tutte le recensioni 99,010 vedi contro review